Cari amici che ci seguite su questo canale, ci troviamo a Ravenna, siamo al Gasolen, un locale molto particolare, sembra di essere sulla Route 66. Questi sono tutti i partecipanti presentati dal sottoscritto Luca Veneziano per Titanus. Lui è? Gigi. Gigi, guarda qua quanti tatuaggi che ha, bene, bellissimi. Poi abbiamo parte della giuria, ultimo bellissimo, Manny Pasquale, Pamela Faggi, Luana Camagni, Cavotta Luca, Filomena Tarrazi, Ione Erika, qualcuno degli ospiti, Michael Anthony, Anja Bombari, Massotti Anna, Saggesa L'Organo, Christian Budi. La reginetta di questa serata, Roberto Camagni, poi qua abbiamo Noccioli Jessica, Matteucci Lorenzo, Sara Vitale, Padovani Mara, Mattia Pozzi, Roberto Vitale, Vitale Salvatore, Toto. Ecco, Toto con i gestori del Baseline sulla Route 66 di Ravenna, l'applauso di tutti i partecipanti. Grazie a tutti, a tutti, alla prossima.